Ciao a tutti, benvenuti nella mia libreria. Sono da sempre appassionato di lettura, ho iniziato da piccolo e non l'ho mai smesso, appena imparato a leggere, diciamo. E se posso darvi un consiglio è di non smettere mai di leggere, di essere curiosi nei confronti di imparare, apprendere cose nuove. Io sono un curioso della vita da sempre, un viaggiatore appassionato e questo mi ha portato a venire a conoscenza, a contatto di culture molto anche diverse dalla mia e anche a conoscere proprio persone differenti tra loro e da me. Sono un insegnante in oltre di scuola primaria, quindi insegno a bambini dall'età di 6-12 anni e ho anche esperienza di insegnamento delle lingue straniere, quindi nel mio caso l'italiano, a persone non italiane e questo altresì mi ha permesso di venire a contatto con delle persone diverse, con delle mentalità diverse, con dei modi di apprendere anche diversi. Il mio metodo di insegnamento si basa sulle teorie del professor Krashen dell'Università della California, negli Stati Uniti, degli anni Ottanta, il quale si ispirava al metodo naturale, che è anche quello a cui mi ispiro io. È un metodo praticamente che parte, che trae le sue origini da quando noi nasciamo, al fatto che noi siamo per due anni esposti a dei suoni e in questi due anni, questo arco temporale, noi ascoltiamo e non interagiamo con le persone perché non abbiamo ancora la facoltà del linguaggio, quindi possiamo solo emettere certi suoni, ma non siamo in grado di interagire, di affrontare dei discorsi, di farci comprendere. Ecco, questo è quello a cui anche mi ispiro io, nel senso che le mie lezioni vogliono mettermi a contatto con la cultura, con la musica, con l'arte italiana, con le canzoni anche. Mi piace anche cantare, mi faccio accompagnare a volte dalla chitarra, canzoni popolari italiane, mi piacciono molto, sono dense di significato insomma per noi italiani e anche secondo me riscono un po' a farvi entrare di più in quella che è la nostra cultura e la nostra maniera di vivere. Quindi mi piace proprio conversare in modo che voi possiate ascoltare anche la musicalità e le sonorità tipiche italiane che tanto piacciono all'estero, che tanto ci rendono orgogliosi della nostra lingua e in modo che possiate anche insomma venire a conoscenza di temi legati all'arte, alla musica, al teatro, al cinema, sia del passato che anche temi contemporanei e magari anche confrontarli con la realtà dei vostri paesi. Ecco, altresì trovo che sia importante comunque anche l'aspetto grammaticale, quindi sicuramente già dall'inizio per i principianti come anche per i livelli intermedio più avanzati è necessario comunque approfondire anche appunto le formule grammaticali, la sintassi, il lessico, però sempre accompagnato molto all'aspetto della conversazione e dell'ascolto perché ho sempre trovato ad esempio anche nella scuola italiana, diciamo la scuola accademica italiana che si imparava molto bene la grammatica e la scrittura, ma poi all'ora di interagire con persone di altre lingue e poi non si riusciva a farsi capire o anche ad ascoltare insomma lingue straniere pronunciate da altri, ecco. Invece trovo appunto sia molto importante essere esposti, venire anzi esposti a dei suoni, nelle sonorità tipiche in questo caso dell'italiano, così da imparare a familiarizzare con questa lingua, a prendere confidenza ed esprimersi poi in un modo sempre più preciso, sempre più accurato, sempre più perfetto.